presentatevi e esplicate cosa è lo zumba dance io sono Abel mi chiamo Deivo e lo zumba dance è un tipico aerobica che va aggiunto con musica latino tipo reggaeton, baciate, salsa e zumba aiuta a mantenere in forma e soprattutto per le donne che fanno fatica ad andare in palestra e facendo questo ballo qua aiuta la gente a ricavarsi bene il movimento tenersi anche in forma e che musica si vale? la maggior parte si usa un po' di reggaeton comunque riguarda sempre il latino americano che viene usato poi che noi facciamo delle preparazioni apposta mischiando anche un po' con quello che sappiamo siccome siamo dei ballerini di pop cioè mischiamo un po' di tutto così in modo che la gente riesce ad operare tutti i movimenti in modo giusto e corretto e ci aspettiamo che almeno la gente sappia un po' come muoversi in diverse occasioni ma cosa vi aspettate fin del progetto? niente ci aspettiamo che la gente almeno cioè gente che non sa ballare o perlomeno che non abbia l'esperienza in quel campo lì cioè se sapesse muoversi tanto meglio cioè impara a ballare insomma in più stay in forma quindi insegnate adesso le basi in pratica esatto e poi adesso abbiamo tipo adesso per lo zumba adesso abbiamo un po' di gente iscritti siamo arrivati a 20 su 20 persone e speravamo prima o poi di arrivare il doppio ho visto che eravate quasi in 30 e spera meno quindi attira com'è certo esatto e poi tipo 21 giugno e 30 giugno abbiamo anche uno spettacolo qui fuori? si 21 giugno si farà a parco a mendora e poi 30 giugno invece si farà qua l'archemia e speriamo quindi stiamo preparando una coreografia con tutti gli altri si stiamo preparando una coreografia con gli altri farsi vedere gli altri cos'è lo zumba penso che la gente piace poi soprattutto fa divertire alla gente è importante che ci divertiamo c'è la musica e si balla quindi invitiamo ci volete far vedere qualche passo? è quasi il maestro dai maestro dai dai facci vedere abbiamo lo zumba tutto fitness e anche un po' di movimento di latino che tipo un po' di mossa tutto il corpo muovendo e poi anche un po' di shake si chiama e poi anche un po' di sarto un po' di sarto come è tipico fare tutto il fitness direi che può bastare ma c'è anche la salsa bacciata si anche la bacciata che è tutto quattro passi qua anche la salsa avanti indietro e così via sono le semplici basi e poi si fa il zumba ogni mercoledì dalle 9 alle 10 e mezza quindi invitiamo i signori della Wisp e tutti i giovani che sono interessati a venire a vedervi esatto quindi ogni mercoledì dalle 9 alle 10 siete invitati da Dave e Abel avete bisogno di fitness vabbè li aspettiamo bacia amore ciao